Babbo, ti strazi così perché? Perché invochi proprio me? Lo so che soffoca il tuo petto. Impotenti siamo, così umani, davanti al prepotente inferno. Dovresti saperlo meglio di me, che la vita porta con sé anche la morte. Quando le porte schiude non puoi scappare, lei ti inseguirà. Ecco, oggi è giornata di sole, lascia andare al vento questo sentimento infantile di rabbia. Preghiamo insieme. Lui ti vuol bene più di me. Non t'ha come credi insensamente abbandonato. Senti il suo fiato. Muove l'intero universo. Non sei perso. Nel vuoto del dolore ti sono vicino qui, nell'amore divino di nostra madre e padre, che infondono quella grazia che la tua anima attende. Distende le sue ali la sacra metamorfosi sul proscenio. Grazie. Grazie a tutti.